bene cari amici fiaspondissimo informato buonasera a tutti ben ritrovati per questa prima puntata del duemila e ventuno della nostra striscia settimanale sul podismo padovano questa sera sono ben contento di avere ospite una un'amica l'amica lara del gruppo vigoranna gruppo alba con la quale abbiamo l'occasione così parlare di una manifestazione che ahimè tradizionalmente una delle prime manifestazioni dell'anno oggi si trova a pagare un po anzi sicuramente come abbiamo fatto fino ad oggi lo scotto del lockdown e conseguentemente anche del blocco delle attività per le nostre manifestazioni però dai lara abbiamo qualcosa di nuovo almeno qualcosina abbiamo cercato di fare avete cercato di fare di proporre per cui diciamo così in questo momento dobbiamo guardare avanti essere positivi e sicuramente credo che sia giusto che parliamo un po di della corsa della striga e parliamo un pochettino di quello che vi siete inventati di fare perché merita sicuramente di essere pubblicizzato a tutti ecco ecco noi così insomma abbiamo pensato ci è venuta un po questa questa idea di provare a segnare comunque un percorso all'interno del nostro comune che si che percorre comunque parte del vecchio percorso diciamo dei quattro passi drio al treno e si appunto si snoda tra gli argini e tra anche parte di strade prevalentemente argini ed ha la possibilità comunque di poter correre sono tredici chilometri sono è stato tracciato l'abbiamo tracciato quindi sono segnati i chilometri ovviamente non è non è possibile dare nessun tipo di assistenza nessun tipo cioè comunque una corsa individuale e quindi come dire si è responsabile anche per se stesso e per questi chilometri che decide di ricorrere però sono disponibili fino al momento fino al 30 di gennaio e il comune comunque è stato insomma ha collaborato anche con noi nel senso che ha ben accolto questa iniziativa che comunque è a disposizione della cittadinanza insomma e da comunque la l'opportunità di poter fare compatibilmente con tutte le regole covid e tutto quanto un po' di movimento fisico tutelando la salute e cercando comunque di un sì all'interno delle regole per non certo ascolta la allora la manifestazione è stata tra virgolette una una delle ultime che ci siamo riusciti ad avere diciamo così in campo nel nel 2020 tra le altre cose una manifestazione che in questi ultimi anni ha comunque avuto una una bella crescita dal punto di vista della partecipazione eh si è consolidata e anche appunto i percorsi eh proposti Drio il Tergola sicuramente sono dei percorsi diciamo così molto accattivanti molto molto gradevoli da fare siamo in una zona ancora che nella quale si respira aria aria di campagna di diciamo così sicuramente si può staccare da quella che è la la routine e si possono vedere sicuramente ci sono anche dei passaggi significativi anche dal punto di vista storico perché comunque sia eh stiamo toccando una zona in cui c'è una un'edilizia rurale antica e meritevole di interesse no? E da quello che ho visto il percorso sostanzialmente il famoso percorso di 13 chilometri è un uno dei tratti classici delle delle ultime edizioni no? Con la partenza del da dal castello da Peraga a proseguire no? Quindi è è sicuramente un il fatto di tenere vivo quello quello spirito che ahimè caratterizzato la presenza di di voi eh tutte diciamo così tradizionalmente vestite da Befanine e molti anche partecipanti no? Vestiti da Befana perché la era è la tragica tra tragica anzi la tradizionale più che tragica eh manifestazione della della scuola quindi c'era l'abitudine per tutti i podisti di comprare la nuova Ferrari per la propria moglie io lo facevo e quindi sicuramente ci manca ricambio quest'anno eh ma sicuramente quello che vi vi siete proposti di fare è un diciamo così un un esercizio che eh è sicuramente importante perché comunque ricordiamo che le attività eh previste sono all'interno di percorsi attrezzati e questo è effettivamente un percorso attrezzato tutti gli effetti messo a disposizione della diciamo così di chi vuole fare attività quindi è sicuramente incomiabile dal punto di vista generale il fatto di mettere un mettere a disposizione un servizio e che secondo me anche un pochettino rianima i gruppi che magari sono in questo momento purtroppo soffocati dal fatto che non ci sia nessuna attività in corso qualcosina che che vi è che ti aiuto o sbaglio? Sì sì è comunque un cercare di tenere anche un po' vivo un po' la anche la motivazione perché non avendo praticamente più competitive più cose comunque anche organizzate che ti permettono anche di condividere magari allenamenti e anche emozioni insomma perché poi comunque eh diventa un modo di stare anche insieme oltre di oltre che fare attività fisica insomma e quindi eh sì sì un po' tutto aiuta anche perché è una situazione che dura da tempo e sì un po' si inizia anche a faticare a tenere duro ecco insomma e dall'altro lato si ha voglia e anche bisogno di questi momenti per poter anche pensare altro per poter anche eh sì ti faccio non è tutto non tutto insomma pianino ricominceremo ecco ascoltami ti faccio una domanda così e così allora come sta reagendo il gruppo di fronte alla diciamo così a questa a questa situazione nel suo insieme? Eh e appunto la motivazione è un po' è un po' difficile da 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 tenere anche se devo dire che eh a fronte di iniziative anche eh nei periodi in cui è stato possibile correre ritrovarsi fare gli allenamenti e il gruppo si era anche formato per cui insomma comunque c'è anche proprio anche la voglia insomma di potersi anche ri riunire e riunire c'è questa voglia eh ogni volta cioè se con questo secondo lockdown chiamiamolo così è forse più faticoso del primo anche se magari qualcosina di più è concesso indubbiamente però però è è lungo comunque la corsa è anche una possibilità di pensare anche ad altro insomma perché altrimenti si rimane sempre anche lì sulla testa con la testa insomma è anche giusto è benessere anche il psichico liberare la mente sono pienamente d'accordo con te allora ascolta un attimo facciamo un attimino un breve recap diamo un po' di indicazioni tecniche per quanto riguarda questo percorso della come lo come è stato battezzato che abbiamo anche la locandina magari poi la andiamo a recuperare è stato definito il percorso della della marcia della quattro passi di rio il treno giusto esattamente eh di rio il treno di rio il tergola a volte ogni tanto casco anch'io nel tranello perché la storia l'ha portato un pochettino a cambiare anche di definizione però eh è la tradizionale manifestazione di Peraga di Vigonza del gruppo Alba di Vigoran possiamo dire che il punto di riferimento e la partenza della diciamo così del percorso attrezzato è comunque dal castello dei da Peraga no a Peraga di Vigonza Esatto di partenza e di arrivo e ecco e da lì appunto si si corre lungo gli argini veramente prevalentemente lungo gli argini insomma comunque 13 chilometri è anche un buon percorso insomma è un buon percorso che possiamo anche dirlo per un buon camminatore vuol dire due ore di impegno di camminata che non fanno assolutamente male che poi lo portano sicuramente a a superare quella famosa soglia che poi è diventata da una soglia diciamo così anche se non corretta da tutto il punto di vista ma sicuramente simbolica che è quello dei diecimila passi e diecimila passi è un pochettino quello che noi abbiamo stiamo cercando di proporre proprio come come iniziativa quella di proporre percorsi attrezzati in ogni comune gestito dai nostri gruppi per far sì che chiunque possa fruirne in primo luogo gli abitanti del del comune per avere un percorso ben definito ben tracciato che li porti magari a stare in aree rurali o poco frequentate così come è previsto dal DPCM quindi siamo perfettamente diciamo così da questo punto di vista in regola e chiaramente non possono essere che percorsi autogestiti oggi come oggi come dicevi tu giustamente quindi noi quello che possiamo proporre è un tracciato individuato definito segnato nel quale invitiamo tutti a partecipare nel quale anche noi stessi magari andiamo a fare i nostri allenamenti quando abbiamo un attimo di tempo nelle condizioni normali magari sicuramente il giorno dell'epifania gli abitanti di Vigonza potranno sicuramente sfruttare questi percorsi magari anche gli abitanti di diciamo così della vicina Cadoneghe perché effettivamente si possono muovere direttamente a piedi per andare a raggiungere i percorsi magari si agganciano al percorso lo seguono e poi quando arrivano a Castella Peraga invece di uscire di dire è conclusa lì fanno gli ultimi due o tre chilometri che li portano a casa quindi magari i loro 13 chilometri diventano i 16-17 chilometri quindi credo che sia un bel gioco e diciamo che comunque sia per chi ama correre sostanzialmente sappiamo che è una distanza media che normalmente vede molta gente partecipare forse i 20 chilometri sono più un ostacolo i 10 chilometri molto spesso lo vediamo parliamo per chi ha esperienza di allenamenti notturni corri per Padova la vostra Vigoran stessa Paleoran eccetera eccetera la gente molto spesso dice ma 7-8 chilometri sono pochi cercherebbe di fare i 12-13 perché è abituato a fare appunto distanze un po' più lunghe quindi poi alla fine i 16 chilometri accontentano molta gente più di quanto magari l'ascoltatore possa aspettarsi quindi diciamo che riusciremo anche a contentare molta gente ecco la mettiamo così quindi io invito infatti i miei concittadini e anche i vicini di casa a partecipare il 6 gennaio ma anche tutto il mese quando e anche a condividere magari anche un po' la loro attività nel sì anche nel gruppo sui social in modo da tenere anche un po' vivo e partecipato anche un po' alti gli animi insomma prendiamola anche un po' virtual ecco la facciamo anche un po' virtual quindi cerchiamo appunto di lavorare nei social come dici tu quindi invitiamo tutti coloro che magari si trovano a andare a vedere e a usare il percorso predisposto magari a postare il proprio commento il proprio giudizio sulla pagina di Vigoran che sicuramente sarete contenti di avere la testimonianza che l'impegno per questa iniziativa viene in qualche modo premiato dalla dalla presenza della partecipazione della dei podisti sì perché anche un modo per anche vedere che magari è stato apprezzato insomma e che è stato anche utile bene Lara allora io ti dico grazie intanto per la disponibilità per per questa puntata eh ringrazio grazie a voi eh vi ringrazio sicuramente per l'impegno in questo momento messo in campo dagli amici di del gruppo Alba Vigorana e a questo punto non possiamo fare altro che augurare ai nostri ascoltatori un sereno duemilaventuno in ogni caso un l'augurio di vederne vedere molti praticare il percorso della della striga o chiamiamola come vogliamo insomma il percorso messo a disposizione da Vigoran e bene lascio a te le ultime parole e poi ci congediamo ringraziando Davide Maggiolo che ci assiste alla regia ok io saluto tutti ringrazio voi e e tutti coloro che che corrono e che hanno voglia di partecipare e di e di continuare ci auguriamo di continuare di e che tutto anche finisca bene diciamo così che andrà tutto bene bene diciamola così bene cari amici da Andrea Gusella e da Laura Virello grazie dell'ascolto e un arrivederci a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti